Ragazzi, guardate! Tranquilli, Wonder Woman la fermerà. Santa pancetta, no! Sembrava un osso rotto. Davvero funziona così? Siamo rimasti solo noi. Allora, chi è pronto a salvare il mio miglior amico? Tu vuoi che noi l'affrontiamo? Ma ha appena fatto fuori l'intera Justice League e hanno tutti i pollici impunibili! Ricordati di me quando non ci sarò più, mio caro Rocco. Ragazzi, tranquilli. Ce la caveremo. Stai, 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 stai. Ah! Stai, 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 stai! Vedete? Tutto a posto. Ora facciamo gli eroi. Ok, squadra, chi siete voi? I miei poteri includono vista laser, soffio di ghiaccio. E non dimenticare il pugno della zampa solare! E che roba è? Una crema speciale per evitare le scottature? No, si tratta della mossa più potente di Crypto. Per eseguirla ha bisogno di volare fino al sole e assorbire le sue radiazioni mortali, trasformandosi così in un'arma a energia termica a forma canina! Nemmeno Superman ha mai osato provarci. Perché forse non ha le zampe? Perché rischierebbe di non tornare indietro. Il pugno genera un raggio che non fa fuori soltanto il cattivo che viene colpito, ma anche l'eroe che lo ha lanciato. Sembra un potere terribile, ma se fosse una crema solare io la comprerei. Ok, ora basta, grazie, dobbiamo andare... Mamma... Sono ancora vivi! Libby! Correggiamo questa piccola svista, Kennedy. Asso, usa lo scudo canino. Cos'è uno scudo? Via! Eccellente! Deve essere stato molto doloroso. Chi vuole scambiare i poteri? Vai, porchetta! Ok, MP, pensa in grande! Dentone! Falli secchi tu! Ah, no, 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 no! Non ce la faccio! Invece ce la fai eccome! Che cosa potrebbe andare storto? Potrei ferire qualcuno! Oppure essere ferito? Oppure finire ghiacciato? Che è la cosa più agghiacciante che... Guscio duro, metti il turbo... Vado! Dove di c***o mi trovo? Siete dei pessimi supereroi. Non capisco come fate a non comprendere le mie indicazioni. Beh, ci sono molte cose che tu non capisci di noi, cane. Forse se prestassi attenzione a chi è... Ah, sto prestando attenzione. Sono con te al cento per cento. Ha degli addomirali pazzeschi!